Consigliere Campitelli, un intervento importante di Edison in Abruzzo raddoppia la potenza dei parchi eolici? È un esempio concreto di transizione energetica, da come la vediamo noi come governo regionale, come amministrazione regionale, ossia una transizione che sia compatibile con il nostro territorio. Come ho appena detto, è un esempio virtuoso perché in effetti raddoppiamo in sostanza la potenza e l'energia elettrica prodotta con un quarto di aerogeneratori presenti sul territorio, che significa che riduciamo l'impatto visivo sul nostro territorio e dimostriamo ancora una volta che noi siamo una regione leader nel rapporto tra ambiente e industrializzazione.